Buongiorno da FTO Online, partenza difficile per la borsa questa mattina, il Fuzzimib infatti ha provato a superare la forte resistenza di area 19,950 dove troviamo il 68% di retracement del ribasso dal massimo del 25 di agosto e la trendline ribassista che parte dagli stessi massimi senza tuttavia riuscire ad andare oltre l'ostacolo, cosa che era anche già successa giovedì scorso. Si è venuto a creare quindi sul grafico intraday questo potenziale doppio massimo che vorrebbe confermato solo al di sotto dei 19.700 punti, in quel caso probabile un ritorno verso l'origine del movimento in area 19,2, 19,3, sopra 19,950 invece bel segnale di forza per 20,150 almeno. Guardiamo oggi due titoli tra i migliori del Fuzzimib che sono Fiat Chrysler e Leonardo e due invece di quelli che stanno facendo un po' più fatica, Enel e Italgas. Iniziamo a concentrarci su Fiat Chrysler, questa mattina siamo in area 10 Euro, vedete i prezzi stanno cercando di avvicinare il massimo del 12 di agosto a 10,08, in caso di successo sotto i livelli ci sarebbe subito una nuova resistenza che è data dal lato alto del gap ribassista del 9 di marzo a 10,31. In termini di risalciamenti Fibonacci, se andiamo a guardare il ribasso dal massimo della fine del scorso anno, vedete il picco toccato ad agosto praticamente coincide con il 50% di retracement, quindi siamo su un livello di resistenza decisamente importante senza la rottura di area 10,10, 10,20, tutto questo movimento di rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di marzo e rischia di dimostrarci solo una correzione temporanea della precedente fase ribassista, vedete peraltro che i prezzi hanno violato la trendline che sale proprio dai minimi di marzo. Il 28 di agosto hanno poi cercato nelle ultime due settimane di riappropriarsi di quella resistenza, ma per il momento si sono dimostrati incapaci di salire oltre la linea, questo significa che il segnale ribassista inviato a punta d'agosto ancora non è stato cancellato. Se le quotazioni dovessero avere difficoltà nel salire oltre l'area 10,10, 10,20, quindi sarebbe probabile un ritorno almeno verso il supporto di area 9 Euro, base del potenziale doppio massimo che si è venuto a disegnare nelle ultime settimane sotto i 9 Euro, poi la figura ribassista verrebbe completata e in quel caso ci sarebbe il rischio di un'ulteriore discesa di 1 Euro circa, quindi su Fiat Chrysler si può avere un atteggiamento positivo di breve fino alla resistenza a 10,10, 10,20 Euro, ma solo sopra quei livelli si potrebbero tramutare eventuali posizioni a rialzo aperti in un'ottica di breve termine in operazioni di più ampio respiro. Guardiamo adesso Leonardo che invece questa mattina è in forte crescita. L'altra linea ribassista che contiene tutta la discesa dal massimo dell'8 giugno è messa sotto pressione nella giornata di oggi, la linea passa a 5,84 Euro, sopra quei livelli ovviamente avremo un segnale di forza importante, verrebbe superato il lato alto di questo canale crescente, sappiamo che alla rotula del lato alto di un canale ci si possono aspettare movimenti di ampiezza almeno pari a quella del canale stesso, quindi sopra area 5,80-5,85 ci sarebbe la possibilità di vedere i prezzi salire fino ai 7 Euro circa, fino a che la nostra trendline non verrà superata ovviamente invece i prezzi rimarranno all'interno del canale e potrà essere ancora valida l'ipotesi che dopo un test da parte alta del canale le quotazioni scendano almeno sulla linea mediana dello stesso, quindi in area 5,13-5,15 e in caso di mancata tenuta del supporto poi potrebbero procedere al test della base del canale stesso a 4,47-4,48 euro, pertanto Leonardo prossimo all'invio di un segnale di forza, ma anche in questo caso come per Fiat Chrysler la resistenza in realtà deve ancora essere superata perché questo segnale venga confermato. Concentriamoci adesso invece su Enel che ha in una situazione non particolarmente brillante, se andiamo a guardare che cosa è successo nell'ultima settimana, infatti ci accorgiamo che i prezzi hanno completato questo test a spalle ribassista che si è iniziato a delineare dal 23 giugno, la neckline è stata violata con un'accelerazione abbastanza evidente il 27 agosto, toccata poi dal basso il 3 settembre e in questo momento la linea passa intorno ai 7,75 euro, quindi solo sopra 7,75 verrebbe inviato un segnale di forza perché in quel caso verrebbe negato il test a spalle fino a che rimarremo di sotto di quei livelli c'è il rischio di vedere raggiunto il target della figura, anche qui prendiamo l'ampiezza della figura, la proiettiamo dal punto di rottura per ottenere l'obiettivo che si posiziona intorno ai 6,80 euro, quindi se i prezzi non riusciranno a scavalcare nuovamente area 7,75, c'è il rischio di vedere di scendere fino a 6,80 euro. Abbiamo un supporto intermedio importante che è la base del gap ribassista del 16 giugno a 7,11 euro, vedete è già stata toccata più volte tra il 4 e l'8 settembre, sotto in caso di una violazione di 7,40 euro, non 7,11 euro, in caso di una violazione di 7,40 euro ci sarebbe appunto un elevato rischio di vedere raggiunto il target del test a spalle, quindi area 6,80. Guardiamo infine Italgas, Italgas ha violato recentemente la trend line che sostiene il rialzo dai minimi di marzo, inviando quindi un segnale negativo, le medie mobili se andiamo a guardare quella a 50 giorni esponenziale che è quella che ci descrive la condizione della tendenza di medio termine è sostanzialmente al centro dell'azione dei prezzi da un paio di settimane, la media passa a 5,40 euro circa, più o meno dove troviamo le quotazioni anche questa mattina. Il fatto che la media sia da due o tre settimane orizzontale ci conferma che non c'è una particolare tendenza in atto, almeno per quello che riguarda il breve termine, sul titolo, però questa mancanza di tendenza segue invece la tendenza ribassista che avevamo visto dal massimo del 13 di agosto, quindi siamo in una pausa successiva a una tendenza ribassista, è possibile che questa pausa nasconda solo la volontà del mercato di riprendere fiato prima di prodursi in un nuovo ribasso. Dove potrebbero arrivare le quotazioni? Ce lo dico nei ritracciamenti fibonacci calcolati per il rialzo dai minimi di marzo, siamo attualmente sul 23,6, se i prezzi dovessero scendere sotto area 5,30-5,35 il target si sposterebbe a 5,10 euro. Una chiusura di seduta sopra 5,40-5,45 potrebbe invece essere favorevole ad un tentativo di ritorno verso la nostra trendline rialzista, il che ci riporterebbe anche verso i massimi del mese di agosto, quindi sopra area 5,40-5,45 si potrebbe iniziare a considerare possibile il test di area 5,70-5,75. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.